Impariamo dai magi a non dedicare a Gesù solo i ritagli di tempo e qualche pensiero ogni tanto, altrimenti non avremo la sua luce, una luce stabile e gentile che non tramonta perché non è di questo mondo, viene dal cielo e splende nel cuore. Così Papa Francesco ha parlato dell'Epifania del Signore alle decine di migliaia di fedeli che nonostante il vento freddo hanno affollato Piazza San Pietro per la preghiera dell'Angelus. Nella nostra vita ci sono diverse stelle, ha spiegato, luci che brillano ed orientano. Possiamo seguire le luci intermittenti che vanno e vengono come le piccole soddisfazioni della vita, anche se buone non bastano. Ci sono poi le luci abbaglianti della ribalta, dei soldi e del successo che promettono tutto e subito. La luce di Gesù invece squarcia le tenebre, illumina ed ischiara. Invito tutti, ha detto il Papa, non aver paura di questa luce ed aprirsi al Signore. Ed ha incoraggiato chi ha perso la forza di cercare, chi, sovvarsato dall'uscolità e della vita, ha spento il desiderio. La vita cristiana, ha concluso Francesco, è un cammino continuo fatto di speranza e di ricerca, un cammino che, come quello dei magi, prosegue anche quando la stella sparisce momentaneamente dalla vista, evitando insidie come le chiacchiere superficiali e mondane che frenano il passo, i capricci paralizzanti dell'egoismo, le buche del pessimismo che intrappola la speranza. Non basta sapere che Dio è nato se non si fa con lui Natale nel cuore. E dopo la preghiera mariana ha chiesto a poveri, profughi e senza tetto, insieme a volontari e religiosi, di distribuire ai fedeli 50.000 libretti dal titolo Icone di Misericordia, con le pagine del Vangelo sulla misericordia.